ultimamente vanno a salire dei ricordi ho il ricordo della morte di tutti ricordo anche lo sparo me lo ricordo come adesso lo sparo oppure quando Norman ha ucciso me e Gwen Mary Gwen io giuro che mi vendicherò mi mancate così tanto Parker guarda che cosa vuoi andare avanti e cercare vendita ora tira giù quel camminone e facciamoli fuori hai ragione bene iniziando da qualcuno e poi da Norman salve Spider-Man come si sta? come mai da queste parti? cosa vuoi? sei bene lo stai bene hai creato troppi dalle qui dentro Parker devi capire che stai creando dalle ti devo spedire in un altro universo da un'altra parte spiace spiace mi dispiace tanto dove siamo finiti? non mi so ma potrei facciare un'altra parte Batman e Superman hanno fatto un'altra parte so che tu lo torci a trovare Batman non aiuta nessuno vuoi vedere che noi ti convinciamo? va bene dato a Kent non mi interessa digli e chiedi il tiny planet di Kent questa è la che lo rende debole Kent vieni qui smettila di prendertela con gente innocente prenditela solo con me uccideremo a costa di morire tutti e tre non mi interessa ma è tutta un'illusio Parker